Hola chicos, benvenuti al mio canale di YouTube. Ciao ragazzi, benvenuti al mio canale di YouTube. Mi nomeno è Giulia e il mio nome è Giulia e nel video di oggi vorrei insegnarvi alcuni degli aggettivi più importanti per potersi descrivere a livello caratteriale in spagnolo e per poter descrivere qualcun altro. Saranno aggettivi tra i più comuni che si utilizzano appunto nella lingua spagnola per descrivere una persona. Non sono in un ordine particolare, li ho messi un po' mescolati e per ciascun aggettivo ho cercato anche un'immagine rappresentativa che possa aiutarvi ancora di più a capire il concetto, benché ci sia scritta sotto la traduzione anche in italiano. Così sarà ancora più semplice da ricordare ciascun aggettivo. Non vi nascondo che mi piacerebbe molto poi leggere nei commenti magari una piccola descrizione di voi o di una persona che volete, tanto io non le conosco e non vi conosco, però così potrebbe essere un modo carino per farvi mettere in pratica quello che avete imparato all'interno di questo video e per conoscervi un po' meglio perché quando avevo fatto una cosa simile anche per la presentazione di sé mi era piaciuto moltissimo leggere le vostre storie, da dove venivate, quanti anni avete perché di me sapete un po' tutto, nel senso mi chiamo Giulia, mi vedete da tanto tempo magari però io non sono nulla di voi, mi piacerebbe tanto sempre di più riuscire a conoscere chi c'è dall'altra parte. Quindi se vi fa piacere selezionare due o tre aggettivi di quelli che vi sono piaciuti di più e di quelli che effettivamente vi rappresentano di più, magari scrivetemeli nei commenti così fate anche un po' di pratica di scrittura. Detto questo tutto pronto per cominciare, vi invito solo rapidamente se vi fa piacere di iscrivervi a questo canale di YouTube se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video, di mettere mi piace a questo video anche alla fine del video perché ancora il video non è cominciato ed è giusto prima vedere se vi piace il video e di venire su Instagram alla pagina Ascolto You underscore Milano dove l'apprendimento continua perché mi conosciute un po' di più nelle storie, ci sono dei quiz se non avete Instagram ci sono anche su Facebook ma soprattutto se vi fa piacere e state cercando di studiare lo spagnolo magari anche in modo autonomo ho messo in descrizione a questo video i miei due video corsi che ho preparato durante questi anni e che vi accompagnano passo dopo passo alla scoperta dello spagnolo e alla fine di entrambi i video corsi c'è anche un attestato finale che si può scaricare da legare al vostro curriculum vitae quindi se per caso cercate un video corso e non avete magari limiti di tempo, di orari per il vostro lavoro, i vostri impegni in questo video corso potete accedere quando volete e per quante volte volete detto ciò, vamos a ver, lo saggetivo spara ad escribir una persona iniziamo ovviamente con le domande, preguntas che si possono fare per chiedere a qualcuno com'è lui stesso o lei stessa oppure com'è qualcuno che si conosce per esempio, como es Pablo, com'è Pablo o como es Maria ho messo per convenzione come sempre in azzurro il maschile e il femminile in rosa più che altro per farvi vedere poi bene gli accordi in genere quindi del genere maschile, del genere femminile con gli aggettivi oppure come possiamo chiedere come sei tu, como eres tu e come si risponde a queste domande com'è Maria o Pablo o come sei tu si risponde così, es se parlo di Pablo o di Maria quindi una terza persona singolare oppure soy se parlo di me stesso o di me stessa soy divertido, sono divertente o soy divertida sono divertente, in italiano rimane divertente un unico aggettivo per dire appunto divertente, al maschile in spagnolo mettiamo la o finale al femminile invece la a per quanto riguarda invece il prossimo aggettivo vi propongo es o soy testarudo ovvero testardo oppure testaruda, testarda con questa immagine esemplificativa di una persona un po' testarda con le braccia concerte per dire testardo diremo testarudo in spagnolo per dire invece chiaccherone diremo hablador soy hablador o es hablador, una persona maschile o soy habladora, es habladora, una persona femminile quindi chiaccherona con queste persone che stanno parlando amabilmente tra di loro quindi abbiamo il verbo hablar dentro questo aggettivo quindi chiaccherone si dice hablador per dire invece silenzioso quindi al contrario avremo es, cagliado, una persona al maschile o es cagliado, una persona silenziosa una persona che magari parla poco e quindi utilizzeremo dal verbo cagliarse, cagliar che vuol dire stare in silenzio avremo cagliado quindi dal verbo parlare, hablar abbiamo hablador dal verbo cagliarse, stare in silenzio abbiamo cagliado oppure cagliada proseguendo vi propongo invece l'aggettivo simpatico mi raccomando con l'accento sulla A oppure simpatica al femminile es simpatico, un ragazzo come questo in foto che sorride e che sembra che sia simpatico o es simpatica per quanto riguarda invece una ragazza non fosse altro per l'accento è proprio uguale in pronuncia e anche in scrittura al nostra lingua quindi all'italiano per quanto riguarda antipatico ho scelto questa immagine solo perché questo signore mi sembrava che avesse uno sguardo un po' corruciato magari invece è simpaticissimo l'avevano solo fatto arrabbiare es antipatico o es antipatica per quanto riguarda una donna o soy antipatico, yo o soy antipatica idendicasi quindi traduzione sempre antipatico o antipatica mi raccomando ancora come per quanto riguarda simpatico c'è un accento sulla A che in italiano ovviamente non abbiamo dico ovviamente perché in italiano gli accenti sono solo sull'ultima di solito lettera in questo caso in spagnolo bisogna mettere invece l'accento acuto sulla A proseguendo con l'aggettivo optimista questo signore con i pollici in su è ottimista in italiano così come in spagnolo finendo l'aggettivo con la A resta invariato al maschile oppure al femminile proseguendo il contrario di ottimista invece è pessimista mi raccomando a differenza dello spagnolo un'unica S pessimista con questa persona sembra disperata che si mette le mani tra i capelli in testa è pessimista e così come per optimista che invece aveva la A che senza invece che ha la A finale per optimista pessimista avendo la A finale anche in questo caso rimane invariato al genere maschile oppure femminile ancora diremo es pessimista Pablo es pessimista Maria o yo soy pessimista meglio fare l'esempio con optimista soy optimista abbiamo anche pessimista e poi abbiamo amable ovvero gentile ancora una volta come per habladore cagliato avevamo dentro l'idea di una radice di un verbo ed era hablar e cagliar qua il verbo è amar una persona che ama e gentile e amabile potremmo anche dire in italiano peccato che ci ho pensato però amabile forse lo diciamo più per un vino amabile ma magari per una persona un po' meno un aggettivo meno utilizzato se non altro sicuramente è più comune sentir dire gentile per dire appunto in spagnolo diremo amable per quanto riguarda il prossimo aggettivo abbiamo un aggettivo che se volete è un semi falso amico perché spesso i miei studenti dicono carignoso per dire carino come dire di bell'aspetto ma in realtà carignoso o carignosa significa affettuoso che porta carigno il carigno appunto è l'affetto quindi carignoso o carignosa significa affettuoso oppure affettuosa quindi mi raccomando non confondiamolo con bonito o hermoso che si traducono con carino per dire affettuoso diremo invece in spagnolo carignoso oppure carignosa e dopo carignoso o carignosa passiamo a tutt'altro mentirosso con questa fotografia che fa un po' impressione di questa ragazza alla quale le si allunga il naso che è mentirossa bugiarda c'è anche qui il sostantivo mentira che è la bugia quindi una persona che è bugiarda si dirà mentirossa o mentirosso appunto al maschile al posto di mentirosso ovviamente possiamo anche avere una persona sincera sincera una persona al femminile o sincero al maschile quindi sincero sincera si scrive uguale ma anche io faccio fatica a volte quando le vedo scritte così a pronunciarlo alla spagnola quindi sincero sincera quindi la difficoltà secondo me dello spagnolo spesso sta in queste parole che si scrivono come nella nostra lingua e di primo acchito ci verrebbe da leggerle in italiano quindi mi raccomando sincero e sincera che vuol dire appunto sincero quindi a differenza della scrittura c'è la scrittura uguale ma la pronuncia cambia proseguendo abbiamo perezoso oppure perezossa ma altresì vago e vaga vago e vaga o perezoso e perezossa significano pigro o pigra mi fa sorridere perché l'aggettivo vago più che perezoso spesso viene un po' diciamo confuso perché sembra che voglia dire una persona vaga che sta un po' sulle sue non si capisce bene in realtà proprio vago significa pigro una persona che non ha voglia di fare niente quindi ho cercato un'immagine esemplificativa di questo ragazzo svaccato come direbbe mia mamma sul divano e che quindi non ha voglia di fare nulla proseguendo dopo pigro abbiamo monello con questo bambino che sta amabilmente mettendo queste puntine sul pavimento nella speranza che presto passi qualcuno e ci cammini sopra abbiamo la parola, l'aggettivo travieso che significa appunto monello oppure traviesa, monella io per esempio era una nina traviesa quando era pequeña era una bambina monella non ho mai messo puntine per terra che io perlomeno non ne ho memoria però potrei chiedere sempre a mia mamma per avere conferma perché non lo escluderei posto questo abbiamo anche avaro o tacagno li ho messi entrambi perché avaro vabbè ovviamente vuol dire avaro ma mi piace molto tacagno perché in italiano forse il tacagno è ancora più brutto di dire avaro magari questa è solo una mia impressione in caso fammi sapere nei commenti se anche se con te è tacagno è un pochettino più forte che dire una persona è avaro o è tacagno che non vuole sborsare un euro e appunto avaro o tacagno significano avare una persona che non vuole dare magari i propri soldi ma non necessariamente si parla sempre di avarizia pensando ai soldi ma per esempio pensando alla generosità non ho voluto un'immagine che ci desse l'idea dei soldi come potete vedere qua ci sono dei volontari che danno magari una mano a chi è in difficoltà ma qui ho voluto mettere un porcellino per dare l'idea dell'avarizia benché sia per l'avarizia che per la generosità spesso si può intendere anche di tempo o essere generosi nel senso che si dà del tempo o la propria disponibilità ad altri la parola generoso l'aggettivo generoso in spagnolo si scrive uguale ma ancora una volta attenzione alla pronuncia perché perché è generoso o generossa quindi generoso generosa si scrive uguale si pronuncia ovviamente in modo leggermente diverso proseguendo con se lo so ovviamente questa ragazza che guarda il suo fidanzato amico fratello chi lo sa che appunto sta insegnando apparentemente a giocare a biliardo a un'altra ragazza ed è un po' gelosa gelosa assomiglia all'italiano mi raccomando però non comincia con la g in spagnolo bensì con la c celoso celosa tener celos vuol dire avere appunto gelosia verso qualcuno quindi io soy celosa el es celoso e via dicendo si la verdad es che soy un poco celosa però lo dico solo a vosotros seguimos con es o soy extrovertido o extrovertida quindi sono o è una persona estroversa una persona estroversa o un ragazzo estroverso extrovertido abbiamo diciamo una qualche somiglianza c'è sempre un verso dal latino extra o comunque che va verso il fuori una persona che è aperta agli altri no extrovertida o extrovertido mentre per quanto riguarda il suo contrario invece che extrovertido abbiamo introvertido con questo ragazzo che magari è su un profilo social però è un po introverso e sta nelle sue addirittura di una scatola ho cercato un'immagine un po' esemplificativa è un po' forte e addirittura con le cuffie che ascolta la musica quindi proprio non ne vuole sapere di avere a che fare magari con gli altri e dunque abbiamo introverso introversa che diremo dunque introvertido oppure introvertida detto questo proseguiamo con la prossima il prossimo aggettivo che invece è reflexivo una persona reflexiva o un ombre reflexivo quindi una persona riflessiva o un uomo riflessivo quindi es reflexivo al maschile es reflexiva o simplemente io soy reflexiva la verdad sinceramente che io soy mas impulsiva però su un secreto quindi reflexivo significa riflessivo mentre impulsivo significa guarda incredibile la traduzione è proprio molto diversa vuol dire impulsivo impulsivo o impulsiva una persona che magari fa più fatica a controllarsi e magari appunto risponde immediatamente agli stimoli senza troppo ragionarci su e su questo ultimo aggettivo si conclude qua la carrellata di aggettivi però io una cosa è molto importante una cosa importante ve la vorrei ricordare però anche se sicuramente magari non nel primo video di spagnolo che vedete questo avete sicuramente notato che io ho utilizzato sempre solo il verbo essere per descrivere una persona perché effettivamente il verbo essere è il verbo che si utilizza per descrivere il carattere di una persona descrivere una persona fisicamente da non confondere con il verbo estar leggiamo bene la prossima slide per ripassare un pochino questa regola e infatti la regola ci dice questo ricorda che per descrivere il carattere delle persone è necessario usare il verbo ser mentre per descriverne uno stato d'animo momentaneo si utilizza il verbo estar e non so se lo sapete e se non lo sapete vi metto in descrizione a questo video anzi voglio fare di meglio ve lo faccio apparire qua il mio video che ho caricato qualche tempo fa sulla differenza o meglio sul cambio del significato di alcuni aggettivi simpaticissimi che se sono messi con il verbo ser hanno un significato se sono messi con il verbo estar ne hanno un altro ebbene questa cosa è molto importante perché può cambiare completamente il senso di una frase non selezionate solo alcuni perché la maggior parte sono nel video che vi ho messo poco fa quindi se volete approfondire questo argomento andate a rivedervi quel video però intanto mi sembrava doveroso e se non altro inserire almeno questi per fare attenzione all'utilizzo del verbo a seconda dell'aggettivo andiamo a scoprire quali sono alcuni degli aggettivi che cambiano significato se sono utilizzati con il verbo ser o con il verbo estar sono questi quelli che ho selezionato gli aggettivi che cambiano di significato mannaggia loro abbiamo attento che con il verbo ser significa cortese vi ho riproposto la foto di questa ragazza che aiuta una signora anziana e appunto es attento o es attenta nel caso di questa ragazza vuol dire cortese gentile un anonimo di amabile mentre se utilizzo il verbo star e sta attento come questo a questi due ragazzi magari in una lezione sono attenti qui non sono distratti questa è la differenza quindi essere attenti agli altri nel senso di essere gentili amabili si dice ser attento invece ser attento o e star attento quando invece una persona è attenta non è distratta magari ci sta invece portando attenzione proseguendo abbiamo aburrido molto importante qua fare la distinzione tra ser aburrido e star aburrido nella prima fotografia con il verbo ser una persona es aburrida perché es magari è perché è noiosa come facciamo questa bambina qui in primo piano magari è annoiata perché la maestra la lezione es aburrida e quindi lei di conseguenza come nella seconda foto esta aburrida e quindi la ragazza della seconda fotografia che guarda lo schermo è molto annoiata quindi e sta aburrida quindi mi raccomando attenzione a questa distinzione altrettanto è diverso dire ser abierto significa essere estroversi mentre e star abierto significa che non è chiuso quindi anche se scritto in inglese open che vuol dire aperto in inglese il negozio è aperto quindi non è chiuso quindi se vogliamo dire un sinonimo di extrovertido diremo es extrovertido oppure es abierto idem dicas il suo contrario se vorremmo dire una persona introversa diremo es serrada o su una persona serrada perché appunto è introversa e vi ho rimesso la foto di poco fa dove avevamo questo ragazzo che era da solo e non voleva contatti con l'esterno diciamo a differenza del verbo ser se utilizzo serrado con e star vuol dire che invece il negozio per esempio o la porta e sta serrada o sta serrado vuol dire che non è aperto quindi è chiuso nel senso proprio fisico del termine in ultimo ma non per importanza anzi avremo ser cansado essere stancante quindi magari non so in questa prima fotografia potrebbe essere l'attività di cucinare stancante o magari lavorare con qualcuno è stancante oppure una persona può essere stancante quindi es cansado e scansado un ombre o es cansada una mujer quindi una persona stancante faticosa da sopportare per quanto riguarda invece una persona che si sente stanca quindi uno stato d'animo uno stato più che altro fisico più che d'animo momentaneo abbiamo estar cansado o estar cansada al femminile quindi capirete che è molto importante per riuscire a ricordarsi che estar cansado vuol dire essere stanchi un po affaticati essere cansado significa invece essere stancanti quindi se per esempio incontriamo una persona che vediamo stanca mi raccomando non diciamogli eres cansada o eres cansado perché sennò questa persona si sentirà di essere stancante detto ciò scherzi a parte ovviamente lo capiscono dal contesto si sa che la differenza tra sere ed estare è una cosa difficile soprattutto per noi italiani perché lo traduciamo sempre con il verbo essere e quindi anche le persone con cui parliamo capiscono dal contesto però mi raccomando adesso che sapete di questo cambio di significato spero che non vi sbaglierete più e per questo video è tutto spero vi sia piaciuto aspetto nei commenti una descrizione di voi stessi oppure di una persona che vi fa piacere descrivere mi raccomando di accordare in genere il numero perché nel video non l'ho messo ma il plurale di questi aggettivi si fa semplicemente aggiungendo la s in tutti i casi che avete visto quindi se volete descrivere più di una persona in un commento sentitevi liberi e fatelo però accordando il verbo essere non sarà più es una persona sola neanche sol perché descriviamo noi stessi ma son per quanto riguarda un gruppo di persone che appunto vogliamo magari descrivere detto ciò io per questo video ho concluso spero davvero che vi sia piaciuto e adesso se vi sia più se vi è piaciuto potete mettere mi piace al video iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto venire su instagram alla pagina ascolto io underscore milan ma soprattutto spero di avervi numerosi nei miei video corsi di spagnolo che stanno aiutando tantissime persone a raggiungere il livello a 2 che è un livello pre intermedio all'interno di questi video corsi vi accompagno passo dopo passo alla scoperta della grammatica e del lessico spagnolo e tra l'altro potete accedere quando volete per quante volte volete quindi spero davvero di rivedervi anche nei miei video corsi detto ciò io concludo e come sempre mi gustaria molto salutarò in spagnolo e quindi moltissima grazie e adiòs